29 nuovi sindaci eletti nella provincia dell'Aquila. Ad Alfedena il sindaco eletto è Massimo Scuro, a Bisegna Antonio Mercuri, a Calascio Ludovico Marinacci è il nuovo primo cittadino, a Campotosto invece Luigi Cannavici, a Canistro Angelo Di Paolo, a Capitignano è stato confermato l'uscente Maurizio Pelosi, a Carapelle Calvisio resta in poltrona Domenico Di Cesare, a Castelvecchio Calviso invece, comune che era eletto da un commissario Rinaldo Pezzoli, l'eletto è Luigi Nantonacci, anima di molte associazioni culturali del territorio, a Cerchio è stato confermato Gianfranco Tedeschi, mentre a Civita D'Antino sarà ballottaggio tra Sara Cecchinelli e Antonio Di Francesco, a Civitella Roveto eletto Sandro De Filippis, a Cocullo Sandro Chiocchio, a Fossa il nuovo sindaco è Fabrizio Boccabella, a Ofena retta da un commissario il nuovo sindaco Antonio Silberi, a Ortuna De Marzi confermato Manfredo Eramo, a Ortucchio sarà ballottaggio tra favoriti e l'uscente D'Aulerio, a Ovindoli Angelo Sante è il nuovo primo cittadino, a Pereto sarà sindaco Giacinto Sciò, a Prezza Marianna Scoccia, ex assessore provinciale, è il nuovo primo cittadino, a Rivisondoli l'uscente Ciampaglia è riconfermato, a Roccaraso è riconfermato di Donato, a San Vincenzo Valle Roveto resta sindaco Giulio Lancia e anche a Scontrone conferma per il Leana Schipani, a Scurcola eletta Mario Limpia Morganti, a Secinaro eletto Bernabei, a Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa cede lo scranno più alto a Vincenzo Giovagnorio, a Torninparte eletto Giacomo Carnicelli, a Villalago confermato Fernando Gatta.